Primo maggio a scuola. Viva il primo maggio. Viva la nostra Repubblica fondata sul lavoro. Quella le cui istituzioni si reggono, da decenni, sullo sfruttamento del precariato, sulle decine di migliaia di lavoratori, giovani e meno giovani, impiegati come tappabuchi del sistema, finché serve, assunti ad ottobre e licenziati a giugno, se dice loro bene, usa e getta. Quella che ti condanna, spesso e volentieri, alla tortura dell'incoerenza, all'essere in contraddizione con la funzione istituzionale e morale che ricopri, il dover trasmettere ai giovani i valori della Costituzione all'interno di un sistema che questi valori ha, anno dopo anno, vi è più svuotato di senso e di risorse. Quella che, in certo modo, ti rende complice quando ciò che esponi in classe e provi a rappresentare con una condotta professionale il più possibile onorevole, fa pugni con la realtà quotidiana, con l'oggi e soprattutto con il domani dei giovani cittadini che sono affidati alle tue cure. Quella delle riforme e degli annunci continui, delle novità che non sono novità, della pirandelliana alternanza scuola-lavoro e della becchettiana educazione civica, della superfetazione di decreti e circolari che usano tantissime parole per ripetere a dirigenti e docenti lo stesso ritornello, sempre. Arrangiatevi e cercate di crepare in silenzio, a costo zero, naturalmente, perché voi valete zero. Per gli uno, prima dello zero, siete pregati di contattare qualche azienda multinazionale. È sempre la stessa canzone. Non c'è alternativa. There is no alternative. Belli miei. Il solito ritornello di tacceriana memoria. Quella dell'inanecarico di burocrazia che, subdolamente, riempie ogni interstizio della funzione docente, uccidendo minuti primi e secondi, sabbia versata in gola per renderti afasico, per estinguere il fuoco erotico della relazione con le persone in carne ed ossa, con gli studenti, con i colleghi, con le famiglie, con i contenuti culturali delle discipline, eros in agonia. Quella della quantità, che, senza alcun rispetto per la sacralità del limite, tende a saturare ogni spazio di senso e significato, azzerando qualità e valori. Quantità bicipite dalla doppia testa. La prima, quella tecnocratica dell'informatizzazione onnipervasiva delle menti, della macchina che non serve se non sei tu a servirla, del problem solving, della logica binaria vero-falso, come dire buoni-cattivi, noi-loro, eccetera. Insomma, un vero e proprio invito al dialogo e alla tolleranza, al pensiero complesso. Nonché quella delle prove invalsi, durante le quali Covid-D non ce n'è. Dunque ci si può ammucchiare, perché Covid-D, è scientificamente provato, all'Igna si riproduce soprattutto tra giovani menti impegnate nell'elaborazione di ragionamenti complessi, un problema di matematica, un testo argomentativo, un saggio espositivo. Quella roba, ormai vetusta, come il fu esame di maturità, che è meglio evitare in presenza. L'altra testa della quantificazione, quella economicistica, dei debiti e dei crediti scolastici, dei voti subito, maledetti e incontanti, prove tecniche di feticismo della merce-denaro, del tu vali quel numero là, i cinque e i sei di oggi sul RE, acronimo di registro elettronico, come gli uno e gli zeri del conto in banca di domani, quella del curriculum vitae da compilarsi rigorosamente online, prove tecniche di maquillage e di marketing, per imparare a vendere se stessi, quella subdola del lavoro in team e del cooperative learning, attenzione agli anglismi, nascondono sempre qualche fregatura, ma guardandosi in cagnesco, perché vita mea, mors tua, individui in perenne competizione gli uni con gli altri, frammentati, cinici, schizzoidi, dolorosamente soli. C'è un mondo di merci che ci aspetta là fuori, e uno non vale mai uno. C'è una terza testa, ancor più metafisica, se vogliamo, che le genera entrambe, è l'anno di Dante, e viva Cerbero. Si tratta del tempo, tempo quantificato, tempo esteso, tempo reversibile, tempo che è denaro, tempo che non conosce né mattina né sera, che non distingue giorni feriali e giorni festivi, tutto uguale, tutto interscambiabile, tempo che squilla quando gli pare, come lo smartphone, tempo bulimico, imparo a memoria, oggi, dimentico domani, tempo anoressico, lo stiro e lo ricucio, per brama di perfezionismo, tempo ansiogeno, non sarò mai pronto, non sarò mai all'altezza, già che questo eterno presente, che sembra non voler passare mai, ha il vizio di arrivare sempre troppo presto e sempre all'improvviso. Non siamo fatti per l'eternità, siamo mortali, un cerchio del genere non si lascia quadrare. Per questo ci sentiremo sempre inadeguati e i giovani apprendisti di questa metafisica così hard si sentiranno sempre fuori posto. È inevitabile. Viva il primo maggio, quello degli sfaccendati con tre mesi di ferie o quello, sinora inedito, dei lavoratori stagionali, della mancetta paternalisticamente concessa a docenti e studenti di buona volontà, affinché, quest'estate, messo a dormire covidi, ricuperino socialità, intrattenendosi negli stessi edifici malconci o cadenti di ieri e di domani, senza erazione, senza spazi e suppellette di didattiche per musica, teatro e sport, tutti insieme appassionatamente, io e te a un metro da terra e a 90 centimetri dalle rime buccali. della festa alla quale dovete venire tutti già mascherati FFP2, così spendete proficuamente i soldi della mancetta. Benvenuti alla Summer School dei Noantri, quella delle nozze coi fichi secchi, quella che intanto ad agosto non ci pensi, così a settembre puoi ricominciare ad abbuffarti di becchime progettualizzato nella mangiatoia della tua nuova o vecchia classe pollaio, con il dividendo di germiniana memoria rigorosamente fermo sulle 27, con qualche deroga verso le 33 persone per classe, quella della sempreverde girandola di supplenti e supplenti dei supplenti, che questo è l'ultimo anno, dall'anno prossimo cambia tutto, come se i gattopardeschi esecutori testamentari del fu stato sociale avessero veramente intenzione di cambiare qualcosa, l'esistenza di un ampio sottoproletariato di precari non è un problema all'ordine del giorno, ma la soluzione al problema neoliberista di come trasferire altre risorse dal pubblico al privato. Chiudiamo con una metafora storica. Come soldati del lavoro molti di noi vogliono continuare a battersi per la nostra scuola, per i nostri figli, in difesa dei valori della Costituzione. Non siamo ancora vinti. La nostra è una grande tradizione culturale e ne andiamo fieri. Come gli eroici difensori della saga di Jarabub che non chiedevano pane ma il piombo del moschetto, non acqua ma il fuoco distruggitore, non il cambio che non si cede neppure un metro se la morte non passerà. Ebbene, dateci armi, dateci risorse, vale a dire dateci classi di quindici, venti studenti massimo, dateci aule ben riscaldate d'inverno e fresche d'estate, dateci palestre e laboratori degni di questo nome, dateci spazi decenti ed occasioni vere per fare cultura e per fare comunità, dateci percorsi di formazione alla professione docente chiari, profittevoli e meritocratici, coerenti con la scelta universitaria che si è fatta, nonché carriere lavorative degne di questo nome. Soprattutto mandateci nuovi battaglioni di insegnanti preparati e volenterosi che con la classe docente più vecchia d'Europa, se non del mondo, forse si potrà resistere ancora un po', ma non si potrà mai passare al contrattacco e senza contrattaccare con le scarpe rotte i vecchi fucili 91 a tracolla senza né acqua né benzina ad Alessandria d'Egitto, non ci arriveremo mai, e non mi venite a raccontare che mancò la fortuna ma non il valore, il valore, l'inventiva, la competenza, la passione ideale, l'amore per questa professione, quelli nella truppa spesso ci sono ancora. d'accordo, ma non è la fortuna di cui siamo noi veri artefici a mancare, bensì la visione e la volontà politica. Buon primo maggio a tutti.